Che la differenza alla fine la fanno le persone, che alla fine la differenza la fate voi, la facciamo noi e qui la differenza si vede in tutte le cose che abbiamo fatto, tutte le volte che abbiamo raggiunto un obiettivo il nostro essere focalizzati sulle persone e il fatto che le persone siano i nostri primi clienti è la nostra più grande forza se continuiamo così possiamo semplicemente fare tutto quello che vogliamo